Il 2021 si chiude con una certezza e una speranza per i 150 agricoltori soci della cantina di Canneto Pavese. La certezza è che comunque andranno le cose. L'azienda, subissata da 10 milioni di debiti, metà dei quali verso gli agricoltori soci, verso ormai in una condizione disperata. Pochi mesi di ossigeno, poi forse cadrà. La speranza è che grazie a questa residua liquidità e al fatto di non essere ancora stata dichiarata insolvente, possa accedere alla cosiddetta legge salva suicidi del 2012 che consente a creditori e debitori di accordarsi per ottenere la cancellazione dei debiti, ovviamente dietro precise garanzie come per esempio la vendita di beni mobili e immobili. Di questo si discuterà nell'assemblea dei soci in programma martedì 28 dicembre alle 14.30. Sarà allora che il presidente Giuseppe Papavero e il consiglio di amministrazione chiederanno la fiducia dei soci per proseguire in questa operazione unica alternativa al bagno di sangue della messa in liquidazione. Secondo il consiglio questa è la via più favorevole per i creditori, una soluzione che sotto il controllo di un gestore nominato dalla Camera di Commercio e dal Tribunale di Pavia possa permettere l'acquisizione di ogni centesimo che derivi dalla liquidazione dei beni aziendali. Senza entrare, spiega ancora il CDA, nelle dinamiche molto meno convenienti dal punto di vista economico di una liquidazione coatta.